ciao amici sono sicura che ve lo chiedete anche voi come mangiare sano fuori casa quando usciamo con gli amici spesso ci dobbiamo adeguare a quello che scelgono gli altri ma per fortuna esistono dei segreti preziosi per mantenersi in forma in salute quando si mangia fuori già che piatti scegliere prima di tutto bisogna limitare i danni seguendo queste semplici regole se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video preferire i piatti meno elaborati evitare salse e salsine abolire i fritti e lasciar perdere le bibite zuccherate limitare le quantità delle porzioni e dimenticare gli alcolici a tavola evitare i dolci dopo pasto perché ammazzarsi di cibo spazzatura rischiare di stare male e sabotare la dieta se il problema è tutto social tra amici e colleghi pranzi di lavoro parenti e familiari usate la scusa delle intolleranze o del mal di pancia la notte prima o del medico che vi ha consigliato di rimanere leggeri qualche settimana funziona sempre ma vediamo ora quali ristoranti e menù scegliere se si mangia fuori se volete conoscere le mie ricette facili e veloci per restare in linea in forma è facile basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche per essere aggiornati appena esce un nuovo video e non perdere neanche un consiglio mangiare sano al giapponese al ristorante giapponese trovate molti piatti non solo sushi e sashimi se cercate pesce crudo affidatevi a un ristorante con materie prime di ottima qualità non si scherza ma non più di una volta alla settimana anche se contiene proteine e grassi buoni è pieno di mercurio non esagerate con le porzioni è facile lasciarsi prendere la mano soprattutto nell'aria all you can eat anche la salsa di soia va consumata con moderazione è ricca di sodio e anche zucchero ci sono però piatti sani come gli spaghetti di grano saraceno yakisoba oppure il riso alla cantonese le zuppe di miso con o senza alghe mangiare hamburger al fast food ma simona questo non è da te se siete all'estero e non c'è altro o proprio volete farvi del male fatevene il meno possibile nei fast food oggi super economici trovate carne rossa ma anche bianca pesce e alternative vegetariane evitate le patatine fritte andate cauti con ketchup e salsine e niente eccesso di formaggio fuso prendete sempre un'insalata e provate gli hamburger vegetariani o il pollo alla piastra meglio una bottiglia d'acqua frizzante o naturale che mezzo litro di coca cola mangiare sano all'indiano anche i ristoranti indiani hanno menù per tutti i gusti magari leggeri a base di pollo gamberi e verdure più sani e meno grassi di carne di manzo e agnello ottimo riso basmati a limone le verdure speziate ma non troppo il pollo tandoori con riso bollito la salsa raita il panier le lenticchie d'alcol riso sono scelte abbastanza sane da mangiare fuori casa mangiare sano al cinese nei ristoranti o take away cinesi non esagerate con le porzioni spesso offerte a prezzi bassi ordinate un piatto per volta non bevete birra a tavola per non gonfiarvi troppo e limitate i piatti fritti per mangiare sano ci sono gli involtini primavera le nuvole di drago i ravioli a vapore se ci tenete alla linea usate poco le loro salse agrodolci cioè zuccherate scegliete piatti cotti a vapore il pesce servito con riso e verdure insalate fresche preparate al momento mangiare pasta e pizza in modo sano pasta e pizza fuori casa non sono il demonio se non si esagera sono meglio dei fast food del cibo etnico di scarsa qualità dei sughi a base di panna e burro se dopo pranzo bisogna lavorare o fare sport meglio pasta con pomodoro fresco e grana pollice in su anche origano basilico peperoncino olive e pomodorini pizza a pranzo ok ma con base sottile senza mozzarella e alle verdure evitate salumi troppo elaborati condimenti sott'olio bibite o birra d'accompagnamento una volta a settimana si può fare mangiare sano vegetariano ecco la vera soluzione la cucina vegetariana e vegana assicura i migliori risultati se avete uno stile di vita attivo leggero evitate la carne almeno fuori casa ma non mangiate solo un'insalatina magari scondita come unico pasto fate attenzione ai piatti vegetariani ricchi di grassi formaggi uova salsine anche nei locali green è meglio controllare e chiedere info sui piatti del giorno consigliati dallo chef gustatevi estratti di frutta e verdura legumi cereali zuppe insalate di stagione seitan e tofu sformati di verdure avete visto quanti modi di mangiare bene fuori casa chi vuole mantenersi trendy e sano può farlo tranquillamente senza scuse mangia sano e vivi meglio